Nei giorni scorsi grande festa a Piano San Filippo nella frazione catenota di ACI San Filippo per l'inaugurazione della fontana, un'opera di decoro urbano che era stata sollecitata all'amministrazione comunale dal consigliere Rosario Sorbello. È un risultato importante che raggiunge questa amministrazione su sollecito dei consiglieri del luogo. Questa amministrazione con queste iniziative dà decoro intanto alla piazza e attraverso il campo sportivo diamo uno spazio fruibile in maniera positiva per i bambini del posto. Ancora qui le iniziative penso che da parte dei consiglieri ci sono tante proposte e si andrà avanti per portare avanti il bene di questa frazione. Grazie.